Salve a tutti i Blazers e benvenuti in questo nuovo video della Diversity 3 in compagnia di Eren Blaze direttamente dalle Samoa americane Ciao, ciao a tutti, sai perché sono alle Samoa? No, perché stavo mangiando il salmue a Fumiaho C'è un po' di Firenze, c'è un po' di contaminazione Ok, ora che ho fatto l'intro posso andare perché a me non interessa tanto questa puntata No, 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 le saltiamo l'Elytra, Tiara Come le saltiamo l'Elytra? Le saltiamo, dai così, so che non hai voglia Anche perché abbiamo appena fatto il parkour Poi ci sarebbe l'escape, ma noi l'abbiamo già fatto Quindi ci butta direttamente con l'Elytra Eh già purtroppo Quindi noi andremo a fare quella che è survival Ah, oh madonna, ok Quindi scendiamo di qua Perché così in basso? Ah, perché c'è la forma del piccone, che figo Sì, esatto, è vero, vedi che c'è il piccone della survival Però da che parte si scende effettivamente? Boh, l'isoletta quella qui accanto forse Bene, oh che bello Finalmente facciamo la survival, ci tenevo un sacco Ops, sono l'Elytra E vabbè, ormai siamo qui Facciamo l'Elytra, Tiara Andiamo, vieni, seguimi Questo non è un piccone, è una freccia Gebated Lol, ci ha creduto un sacco Guarda che c'è un pipistrello Un sacco Cosa vuoi l'epistrello inutile? Devo picchi... Ok, effettivamente Cosa crudele Onesto Andiamo, yeee E ma io? E tu ti attacchi Grande Tiara Ce la puoi fare? Guardalo Yeee Yeee Arrivato Sei anche schiantato Va bene, possiamo andare Tiara Bravo, bravo ragazzo Cosa c'è qui dietro? Aspetta Niente, andiamo O forse c'è qualcosa dietro Un segreto, una cesta Ma, una cesta è comunque qualcosa No Ah, giusto Io non la voglio fare questo video Le ali degli SCP Io non la voglio fare questo video Fa niente, Tiara È arrivato il tuo momento di soffrire Ok Oh no Cosa dobbiamo fare? Uh, è lì tra questo qui Ok, va bene No, non puoi Non funziona Allora Dobbiamo scegliere un passaggio Presumo Mi sa che ci sono tutti bloccati Tranne uno Ci sono tutti i tunnelini, vedi? Ok, ma Comunque tranquillo Cioè, presumo che cercherò io di portarli fino in fondo Anche perché sto registrando Grazie, no, no, praticamente non finiamo più Io provo ad andare dall'arancione Magari si apre mentre ci avviciniamo, non lo so No No Ma cosa devo fare? Apriti Oh Firework rocket Uno Due Aia Listo Tre Immaginavo Quattro Ok Ok Ok, e ora? E ora si sono sbloccate la porta Sì, si sono sbloccate tutte le porte Sì, si sono sbloccate Perfetto Vedi che ci penso io Tranquillo, Tia, non ti preoccupare Grazie, Simo, per fortuna Io ti ho guardato dall'alto e basta Lo so, lo so Allora, andiamo In quell'arancione Però devi venire anche te Sì, 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 ovvio, ovvio Yuppi Questo sarà uno dei branch più divertenti, Tia Ma io ho già missato, Simo Ho sbattuto con l'anello Wow E anche io ho sbattuto Rip Ma dobbiamo prenderli per forza, gli anelli Quello bianco Che c'era lì davanti Non so se ti può Uno di otto Si riprende per forza Ok, l'hai preso tu Grazie Due No Va bene Tre Wow, wow Qua si scende un botto tra la lava Occhio, Tia Sì, sì, ci faccio attenzione Quattro Ok Ok, si scende un sacco negli inferi Cinque Sono morto Razzettino Sei No Perché sono Perché? Ma io stavo andando Perché mi ha tippato? Perché hai toccato terra, mi sa Non l'hai toccato Ho preso l'anello Ah, non puoi toccare neanche il cerchio stesso Quello che dicevo io Allora, se vai nel cerchio però Ti stavo dicendo Ma porca Ti dà il razzettino Esatto Che serve un botto Troppo veloce Sei Ah, no Non l'ho preso Tier, non l'ho preso Muoio Alla fine tu devi tipo Devi prendere il razzettino Grande Ti sei schiantato Contro un anello Ho visto Devi prendere i razzettini alla fine, no? E tipo volare in alto Sì Che ballo È bellissimo sto gioco Non è bello È odiosissimo Non è bello quando l'anello Nel quale devi passare Ti killa Sì Perché allora lo spazio non è di 5 o di 3 È di 3 È di meno Ma dai, ma cosa vuol dire sta regola? Treyarding time Ah, cacchio Ho capito dove bisogna salire It's tryharding time Sono arrivato adesso al sesto anello Comunque guarda che ti dà soltanto un Non finirla Non finirla Cosa? Non finirla No, no, ovvio, ovvio, ovvio Ti dà soltanto un razzetto per anello comunque Non è che li puoi accumulare E ho capito, ma ora che non ho preso l'anello finale qui perché Ah, ok, aspetta Ah, ok, aspetta Dai, entra Yes Tette, ottimo Bella, Simo Yes Oh, non l'ho preso Aspetta, devo tornare No, si è posato No, stavo tornando indietro C'è la lava che mi ha fatto laggare E porco il mondo Cosa è successo? Che sto morendo Bruciato? Lol Oltretutto Vacca Eva, oh Ma, Tier, mi lagga e non mi dà più Ma dai Oh, e che cavole, dai Dai, basta laggare Basta Ma perché? Ma quanto lagga? Ma che schifo Ma non me lo fa finire Non me lo fa finire Ma che ca... No, Tier Io l'avrei già dovuto finire da un... Dai Sono morto Ah, adesso sei morto Eh, adesso Vabbè Oh, Tier Io l'avevo finito, eh Ho usato il razzetto finale E non è andato Non ha funzionato Già Fa il culo Niente Non va Non va Non va il razzetto Io arrivo lì Lo sparo Non va Non va il razzetto Cosa devo fare? Allora, calmo Apri il chakra No, non devo aprire il chakra Se lagga il gioco Non mi fa usare il razzetto L'avrei finito tre ore fa Sto robo Ma guarda, cosa fa? Ma si muove da solo il personaggio Sta ancora volando E sono in lobby Ah, quello succede anche a me E cosa faccio? Eh, boh, aspetto Eh, ok Ma che cos'è? No No Credo in te, Sivo Passa, passa, passa Yes Ok, ora? Non è finita Non è finita Come non è finito? Cosa devo fare? No, ti prego Avrei finito tutti quanti gli annelli Adesso non so Ma che so doveva fare No Cosa devo fare? No No Mi sono posato nel fin Mi sono posato nel finale Non andava bene Dovevo entrare fino in fondo Ma che... Ok No, 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 no Aspetta, aspetta Non è finita Non è finita Ok Vai, Sivo Io credo in te Ok Vai Vai Ok Sono arrivato a fine livello Quindi Pulsante Oddio, santo Oh Oh Grandissimo Mamma mia Oh, si è chiuso Fanculo Ok, adesso Abbiamo altri nove così Davvero sono nove? Sì No, sono sette Sono sette Ah, dai Facciamo Vai, nel giallo Vai, andiamo nel giallo Uh, che bello L'arcobaleno Lolz Ne ho preso uno Ma sono morto Sai che Nel momento in cui l'hai preso Ha lagato il server Io sono passato Attraverso il mio anello Non l'ho preso Non l'ha preso Ora sono destinato a crepare Perché il lag ha deciso Di non darmi il razzettino Ma che strano Che Cosa vuol dire? Ierson ho le tue spalle Ciao Ti è superato Ho già superato Alla grande Perché stai andando molto Più veloce di me Io sto andando piano 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 Ecco un altro anello Ottimo Eccone un altro Very good Ma l'anello Ma l'anello è lì Sono preso Ah ecco dove è il finale Sì il finale è chiuso C'era tipo un tempio Eh sì immaginavo Ecco ne ho visto un altro Preso Dai in questa isoletta Ci sarà qualcosa no? Sì eccolo Ottimo Ok Sette Te ne manca un ultimo Dentro il mulino Hai dato un'occhiata Dentro il mulino l'ho preso No Non l'hai preso Come non l'ho preso? Sì che l'ho preso Ok l'ho preso io adesso Ma l'ho preso ti giuro Non me l'ha segnato Non lo so Forse non te l'aveva contato Te l'ho preso Perché non era ancora giallo Provo Ad andare sul finale Ah ok Ok eccomi qua Fatto E' fatta Culsantino Questo era molto più gestibile Rispetto all'altro Magari c'era un ordine Che abbiamo cannato Non lo so Ma è strano Quello lì sembra proprio il primo Perché è davanti Dove spawni Io vado subito nel marrone Che ha subito Un anellino davanti Bello un marrone Le farlands Potenziale titolo Uno su otto Quarto Ah ma è tutto E' una cosa E' un'enorme caverna Tipo Ti vedo davanti Che brutto questo Ah Ok Ottimo ce l'hai fatta Ok sono arrivato In una sorta di zona finale Con un tempietto Ok E adesso prendo l'ottavo E si apre Il common block Dentro subito Oh minchia Ho fatto Oh fatto subito Si Bello Nice Cacchio Ci stiamo rischiappando Dal primo partito male Il primo la gava Il primo la gava Come il demonio E li vedo scialli Anello nero Eh sì Comunque nessuna battuta Sui rimi Gioco con l'anello marrone Strano No però qui ti potrei fare Una battuta sul roast beef Se vuoi Che bello Siamo nello spazio Tier Come saltare Da un argomentale Lascia like Se l'hai capita Se like Apita Ah lol Nice one Eh Sì ma tra i meteoriti Sarà difficile Non posarsi Appunto Ciao Tier Ciao Simo Ero appena morto anch'io Ne verremo a capo Da questo branch Che non ti piace Ma nel quale tutto sommato Te la stai cavando anche bene Ti stranamente sì Sono relativamente sorpreso Da quello che sto facendo Devi credere in te Cioè ho appena trovato Un anello Tipo all'interno del sole E quello farà Piacere Provo a slanciarmi Con il razzetto Entro In questa sorta di giove C'è la terra Wow che bello Ma che bello Bellissimo Ho aperto la terra Ho fatto l'ottavo Ah non ti appoggiare ora No 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 Mi sono appoggiato alla fine No No Era l'ottavo Era l'ottavo anello Ok entriamo 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 Ah lo volevo premere al volo Vabbè rip Tier Eh sono morto evidentemente No Questo lo schiacciavi te Vabbè fai niente Pensavo avessi finito Pensavo avessi finito Che mi avessi intipatito per quello Perché sono morto nel nulla Eh no Ci stavo aspettando Vabbè Vai Qua secondo me ci sono i dinosauri Così Perché no Porco can La fresta Ho le frizzatine In basso a destra Lo prendo Bravo Prendo anch'io così Il razzetto Due Ok io vado direttamente qua Aia Ha fatto malissimo La testa Aspetta però Non vorrei che ce n'è un altro Nascosto lì Sei morto tu? Ne ho preso uno là dentro Se ce n'era uno lì Ah no no Ok questo Va bene Ho trovato la fine La fine in basso Quindi qua dobbiamo scendere Basta Sì sì no Qua dobbiamo proprio seguire un anello Baratron Sembra di vedere Made in Abyss Così cito anche un altro manga E Tutti gli otaku come me si gasano Perché vedete quante ne so E vabbè Comun No è toccato Stavo facendo il mio discorso Questa parte è molto Bliassante No questo è il settimo L'avevi già preso l'altro Ottavo E ho trovato il finale Vado È il finale giù in fondo Arrivo anch'io Davvero No Ti ho visto LOL Si è schiantato Si è schiantato Era lì Era lì Vabbè ti ora Adesso avrà per la prossima Sì va bene LOL Aspetta Quanti ce ne manca Ce ne mancano tre Tre Ok andiamo Nell'azzurro Nello giuro Qua secondo me ci sono i dinosauri Continuerei dirlo finché non abbiano i dinosauri Vero? Oh una baia di pirati Ma qua basta questi pirati Quanto fissa ti stanno? Ma è tutto un ecosistema sott'acco Ho visto Si 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 Allora si bravo Prendi quello Così abbiamo già Il potenziamento Ok Questo in realtà l'avevo già preso Ok Solo che sto andando un po' a muzzo Ma poi puoi nuotare È mezzo diciamo Ah là c'è un altro Ok intanto prendiamo questo qua Ottimo Ok Nel senso che se cadi in acqua qua non ti tippa E beh devi andare in acqua quindi LOL Ah guarda ce n'è uno al centro di questa enorme struttura Quella centrale Ho toccato C'è un enorme blob giallo blu e rosso E lì al centro c'è l'ottavo che ancora non è stato preso Prendilo prendilo Eh no no sono morto Oh shit Adesso ritorno Cioè non so dov'è Se ce la faccio vado Ok perché Perché tipo E se no dai provo a uscire io da Dall'acqua in qualche modo Ma no ma è in acqua LOL Non ce la faremo Sono morto in acqua Io guarda che è da prima che sto ancora girando qua in attesa Io ci sono passato lì dentro eh E non te l'ha dato Non me l'ha dato No Come faccio io a tornare su Eh vabbè va bene così dai Così Trovato Trovato? Sì era nascosto nel fondale Ok vai pure vai pure Ok Tac Tier Verde scuro Eh ma io non ci sono Sono ancora dentro la cosa Ma Vabbè mi schianto Rip Verde scuro sicuro i dinosauri Dinosauri sì Eh beh questa volta sì dai Per favore se non è verde scuro Che calcio lo può essere Sì sì guarda guarda Annellino subito Eh no è un altro di quelli col tunnel Che va seguito per forte È una spirale questa mi sa Una spirale ovale No a drop Lo vedrai Ecco appunto ho missato Non ce l'hai fatta? No Ho missato il drop Eh questa Questa era pesa È una tecnica che Quando l'avevo fatta nella prima mappa Che ce l'aveva Mi ricordo Ci avevo messo tipo tre anni A Masterarla Aia 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 Ok Salvato Ok ora ce l'ho fatto Al terzo Sarà un po' di velocità Mi sa Dinosauri È un serpente È un serpente C'è una cacca C'è un mostro di merda Tear No Scusami ero al settimo Lol Sei morto? Sì vai pure Vabbè E allora neanche questa volta Tear schercerà il bottone Quello Potevamo aspettare Quello verde chiaro Effettivamente Lì ce la potevo fare Perché era una stonzata Vabbè Tear ormai è andata Hai l'ultima chance Nel dior Dinosauri qua? Noi dinosauri Basta C'era il serpente gigante Mi accontento Ok Se ci sono i dinosauri qua Per davvero Però rido No no guarda È una città Eh madonna Interranea Ho trovato il quarto Che è mezzo ai palazzi Ok l'ho fatto Prima di morire Bravo Il mio corpo morto Ha attraversato il buco Ho notato Ho notato È proprio L'ha lanciato Il piede Oltre l'ostacolo Sì 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 La scarpa Neanche il piede La scarpa Difficio Secondo me è l'unica opzione Perché per il resto Abbiamo visto Io perlomeno Ah no Ho trovato uno Ok Sivu Sono più avanti Quella direzione Mi trovi in alto Sulla strada Sì Ma non me l'ha preso Ah Tear non me l'ha dato Perché sono morto io Nel frattempo No no Non so come tornarci Non mi ha dato Nel razzetto Nell'anello Quando Allora se una persona Passa nel cerchio Mentre un altro muore Si blocca tutto Abbiamo visto È giocato Sì lì ho il lato server Macchina proprio Prende il razzetto Giro e ti seguo Tu vai Ci arriva anche senza razzetto Mi vedi dove sono Sì Ok Vado a prendere quello Sotto il passaggio Va bene Ti seguo Ok No Ok l'ho preso lo stesso E poi in fondo a sinistra Qua Dritti Fallo tu Ok Grazie De nada E un moto Andiamo indietro E moto moto Sì E moto moto Che Mi devi Adesso mi dovresti guidare tu Più o meno Perché non so dove Eh niente Dobbiamo tornare Indietro Non so bene da dove Sto girando a caso io Ah ho trovato la zona finale Ce l'ho fatta Va bene Aspettami E se sopravvivi Schiaccerai tu Il pulsante Ce l'hai fatta? Sì No che to... Cioè All'ultimissimo Grande tier Grandissimo Ce l'hai fatta Va bene ragazzi Lol Ah ho aspettato Per tanto In questo momento No Ah c'è un dropper Ok Prego Prego Quindi C'è davvero un dropper Ah Ma Ah dobbiamo aprire Le litra Anche prima di Ah che non avevo più Ok Nave del land Chest sotto C'è una porta Salve Buongiorno Oh Ciao Ho trovato uno che è al cesso Ma è Trico Ciao Trico Eh non mi aspettavi Sì stavi anche caccando Lo so però muoviti E comunque qua all'inizio Nella prima casa Avevano messo gli specchi Tutti i fighi Poi qua invece hanno Il blocco di ghiaccio Ecco ci ha dato Grazie Scusa Buona Buona cacca Spero non è bisogno Per pulirsi No non è la lana marrone Esatto Pensavo sia stata marrone Avrei pianto tantissimo Sta analizzando L'item Yes Sono sopravvissuta L'elitra Non ci credo neanche Mamma mia Sono contento Tier siamo a 8 lane Ce ne mancano 3 Anche 2 puntate fa Dicevo che ne mancavano 3 Perché avevo fatto male I conti Questa volta ne mancano davvero 3 Ci manca puzzle Anzi survival puzzle E boss Nice Sai che c'è? Mi dica